Musica Ben trovati per l'edizione pomeridiana del TGNU Iniziamo dal racconto di una domenica di sole in Versilia, a Viareggio, è già aria di estate La natura fuori si sta bene, dentro l'acqua è marmata Più che la prima domenica di aprile è sembrato una domenica di fine maggio Temperature quasi estive, un sole che ha attirato migliaia e migliaia di persone in Versilia Per un primo assalto alle spiagge decisamente fuori stagione A Viareggio, passeggiata sold out, la fila fuori dai ristoranti e lungo il molo per assicurarsi un piatto di fritto alle 3 del pomeriggio Fa capire il livello di afflusso turistico, in un weekend di sole che ha ripagato il mezzo flop del ponte pasquale bagnato dalla pioggia In spiaggia molti, grandi e piccoli, hanno serenamente fatto il bagno Però è freschina, è un po' freschina, però diciamo che magari se ti tuffia Si sta da dire, guarda, sono venuto ieri, sono andata spettacolare come oggi, si sta benissimo, speriamo che dura il tempo Una prova generale di estate in nettissimo anticipo, che ha trovato la spiaggia ancora in veste quasi invernale Pochissimi gli stabilimenti balneari già pronti Del resto, chi ha licenza stagionale e non annuale, può aprire soltanto dopo il 15 di aprile Ma chi ha scelto di allestire già ombrelloni sdraio, riservati ai soli clienti dei ristoranti, ha registrato il tutto esaurito Veramente abbiamo assaggiato sia oggi che ieri, due giornate prettamente estive Noi, insomma, come vedete, abbiamo già montato un pochino la spiaggia La scelta di partire prima è una scelta un po' complessa, perché comunque è anche un rischio imprenditoriale Perché comunque non è detto che il tempo ci dà la possibilità di avere una certezza sul sole Però insomma io credo che bisogna crederci, credere nel nostro lavoro e dare comunque, come ho detto prima, al turista La possibilità di venire al mare, anche se poi non è bellissimo il tempo, però viene a mangiare Si siede al ristorante, fa una passeggiata, vede che comunque le strutture sono aperte, è quello che conta E rimaniamo a Via Reggio, dove però il proseguimento dei lavori in Piazza Zara sta facendo preoccupare i balneari che si affacciano su terrazza della Repubblica E' ancora tutto fermo in Piazza Zara, nonostante le sollecitazioni da parte dell'amministrazione comunale La ditta vincitrice dell'appalto non ha ancora ripreso i lavori, interrotti a causa del rinvenimento di una tubatura da mianto Che tuttavia non ha comportato una contaminazione dell'area, come certificato dalle analisi dell'ASL E adesso, al ridosso dell'inizio della stagione balneare, tra i titolari dell'attività che si affacciano sul cantiere, cresce la preoccupazione Caso emblematico quello del bagno Zara, che ha un accesso pressoché inesistente Il fatto è che siamo sempre in questa zona qui, che ormai è diventata un campo di battaglia Voi fra l'altro non avete neanche l'accesso in qualche maniera Abbiamo un accesso che è di 50 centimetri, diciamo un metro Altro disagio, non da poco, l'impossibilità di sbarazzarsi dei macchinari danneggiati durante la mareggiata di novembre Che restano così all'ingresso dei bagni, in attesa di un possibile accesso da parte dei mezzi per il loro smaltimento Nonostante ci sia stata un'alluvione che ha portato un sacco di danni Non abbiamo neanche la possibilità di ripristinare le cose E alle soglie della stagione mi sembra che sia una cosa abbastanza infisciante Tra l'altro qua i ristoranti degli stabilimenti sono a licenza annuale Ma non è stata possibile l'apertura proprio a causa del cantiere della piazza Noi siamo dovuti stare chiusi perché avrei voluto aprire a Carnevale Per poter dare un servizio anche per i clienti Anche solamente per un discorso di facciata Anche per poter farsi vedere Il problema è che non ci è stata data la possibilità Perché come ripeto la situazione è abbastanza importante Ci spostiamo, andiamo in centro storico a Lucca Dove nel fine settimana ha tenuto banco insieme al film Che stanno girando da stinofono ed allenante Verdemura È già stata ribattezzata un'edizione da Oscar Una definizione quanto mai calzante da interpretare Almeno questa volta nel senso letterale del termine Sì perché quest'anno Verdemura ha registrato numeri importanti Con 20.000 presenze in tre giorni, 2.000 in più del 2023 È un sold out delle piante in mostra che ha costretto, si fa per dire Gli espositori a correre a fare rifornimento proprio alla vigilia della giornata di chiusura Se poi si aggiunge che quest'anno a far visita la mostra mercato del giardinaggio Si sono presentate anche due star hollywoodiane Che l'Oscar l'hanno vinto per davvero Allora il richiamo alla celebre statuetta risulta quanto mai azzeccato I due protagonisti del film di Peter Greenaway Impegnati proprio in questi giorni nelle riprese in città Hanno entrambi visitato infatti Verdemura La prima è stata Helen Hunt Che ha fatto la sua passeggiata tra le mura in fiore nella giornata di ieri Oggi nel primo pomeriggio è stata la volta del collega Dustin Hoffman Anche lui rigorosamente in visita privata Per ammirare tulipani e cameglie Andiamo alla cronaca Nella notte fra sabato e domenica I gnoti hanno fatto esplodere il bancomat della Fideuram dell'Arancio Un boato tremendo ha svegliato nel cuore della notte I residenti di Viale Castracani all'Arancio Era esploso il bancomat della banca Fideuram Una banda composta da quattro uomini incappucciati È entrata in azione intorno alle tre Facendo saltare in aria lo sportello Con la tecnica ormai consolidata del gas acetilene Per poi scappare indisturbata con un bottino ancora da quantificare Ma che dovrebbe ammontare a diverse decine di migliaia di euro I malviventi si sono poi dati alla fuga in auto Prima dell'arrivo delle forze dell'ordine Facendo perdere le proprie tracce Sulla vicenda sta indagando la polizia Che nel frattempo ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della banca Si cerca di capire se il colpo all'arancio sia collegato agli altri assalti ai bancomat Che si stanno verificando ormai da mesi in diverse città della Toscana Il candidato del centro-sinistra Capannori, Giordano Del Chiaro Ha inaugurato a Marlia la nuova sede del comitato elettorale Lo spazio diventerà punto di incontro e confronto aperto per i cittadini In vista delle elezioni amministrative di giugno Nell'occasione l'assessore all'ambiente ha lanciato anche un progetto di riqualificazione del territorio Sentiamo Strade vivibili Un progetto che risponde a un'esigenza sentita Quella della vivibilità dei centri abitati Che spesso si trovano a convivere con situazioni anche di commissioni con aree produttive L'impegno del comune è quello di realizzare tante infrastrutture dalle rotonde Attraversamenti rialzati, incroci rialzati, isole pedonali Che consentano a ciascun cittadino di vivere meglio nella propria zona Nella propria strada e di avere paesi sempre più a misura di tutti i cittadini di Capannori Rimaniamo a Capannori Rimaniamo a Villa Torrigiani Per una fioritura di camellie extra large Bilancio positivo a Villa Torrigiani Per la fioritura delle camellie 2024 Complice a una stagione invernale particolarmente mite Le piante che crescono in questo sito Insignito nel 2018 del titolo di parco privato più bello d'Italia Hanno avuto una fioritura extra large Particolarmente abbondante e duratura Tanto da protrarsi fino alla primavera inoltrata Una bellissima stagione Il tempo ha veramente aiutato Il sole le ha fatte sbocciare al loro meglio per lunghi periodi Alcune da dicembre addirittura hanno incominciato E il massimo è stato ovviamente nel mese di marzo Che è quello che dedichiamo sempre alla camellia I suoi itinerari La sensibilità è decisamente aumentata E l'interesse per la camellia forse è anche dovuto Che è il primo fiore quando si esce dall'inverno Anche se ora cominciano a fiorire in pieno febbraio E quindi sì, amano molto perdersi nel boschetto di camellia Vedere i fiori Non solo più per una questione estetica Proprio si interessano E molti vanno a comprare le camellie E cercano di coltivarle Speriamo ci riescano Tanti turisti che visitano ogni anno la villa e il suo parco Che vanta tra le sue camellie Anche esemplari Piantumati oltre 200 anni fa Particolarmente numerosi Almeno finora i turisti tedeschi Mentre mancano ormai da diversi anni Le comitive di studenti Di qui l'appello alle istituzioni scolastiche Affinché tornino a organizzare Come accadeva una volta Uscite didattiche a Villa Torrigiani Una meta in grado di conciliare storia e natura E adesso andiamo a Barga Perché si rinnova il legame con la Scozia Barga sempre più legata alla Scozza Grazie ad una nuova importante visita istituzionale Prevista nei prossimi giorni Ma anche con la nascita dell'associazione Barga Scott Che in patria avrà il compito di arricchire E far crescere sempre più questo rapporto La presentazione del viaggio e dell'associazione Nella sala consigliare A cura della sindaca Caterina Campani Di alcuni componenti dell'associazione Di cui è presidente Stefano Succi Barga Scott è un progetto pensato e voluto fortemente Dalle persone che in questi ultimi anni Si sono impegnate in collaborazione Con l'amministrazione comunale A far divenire lo Scottish Weekend di settembre Uno degli eventi più importanti del capoluogo L'obiettivo è contribuire in collaborazione Con istituzioni, enti pubblici e privati E altre associazioni Alla promozione culturale e culinaria musicale Delle tradizioni storica e sociale Del rapporto tra Barga e la Scozia Mediante l'attivazione di tante iniziative Oltre all'associazione si è parlato Dell'imminente viaggio in Scozia della sindaca Con la sigla dei patti di amicizia Tra il comune barghigiano Il comune di Glasgow E la contea del sud d'Ailshire Approvate a marzo dal consiglio comunale di Barga Saranno siglati il 15 aprile a Dea Ed il 16 aprile a Glasgow Dopo uno speciale concerto pucciniano Organizzato dal comune di Barga In collaborazione con l'associazione Lucchesi nel mondo E' tutto per la prima parte del TG Ci fermiamo Un breve break E poi la pagina sportiva 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 E poi la pagina sportiva